Lascio a te la presentazione, presentati ai tuoi nuovi tifosi. Ciao a tutti, sono Iman Radovanovic, sono nato 29-88, sono nato a Belgrado a Serbia e mia squadra precedente era l'Atalanta. Adesso indossi la casacca del Chievo, una casacca giallo-blu, quanto sei contento di questa nuova esperienza? Sì, sono molto contento perché sono bellissimi colori anche della questa maglia e poi perché non ho vinto mai contro Chievo, perché qui sempre ho pareggiato e ho vinto e adesso finalmente non perdo più Verona, spero di vincere sempre. Hai già ricevuto, hai fatto la prima telefonata, chi ti ha chiamato, chi hai sentito? Sì, subito adesso ho sentito la mia moglie e la mia famiglia che sono stati troppo contenti perché questa cosa aspettavamo da po' di giorni che si concludesse e adesso siamo contenti. Vuoi fare un saluto ai tuoi nuovi tifosi? Sì, un abbraccio e un saluto ai migliori tifosi che sono stati primati quest'anno come ho sentito io e speriamo di vincere sempre. Grazie. Grazie a voi.